Ciao a tutti, qualità che gli uomini trovano irresistibili in una donna. In questo video voglio spiegarti quali sono le qualità che gli uomini trovano irresistibili in una donna. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco. Ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai farmi delle domande in apposite live alle quali darò delle risposte precise. E veniamo adesso al tema qualità che gli uomini trovano irresistibili in una donna. No, ecco ti dicevo, con gli abbonamenti potrai scegliere te gli abbonamenti live per partecipare alle mie live, gli abbonamenti base per lezioni mirate, l'abbonamento top per lezioni mirate e videoregistrazione in seminario del vivo e l'abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. E adesso veniamo al tema delle qualità che gli uomini trovano irresistibili in una donna. Allora, sono diverse, appartengono alla sfera istintiva, alla sfera pulsonale, ma anche alla sfera logico-razionale. E spesso gli uomini non se ne rendono conto, non riescono a razionalizzare queste qualità perché appartengono alla spinta evolutiva proprio dell'essere umano. Quali sono queste qualità? Beh, una è, se lo chiede agli uomini non se ne rendono conto, è un alto rapporto fianchi-vita perché una donna con una vita stretta e i fianchi proporzionalmente larghi rispetto alla vita è una donna che ha più probabilità di essere fertile e più probabilità di portare a termine la gravidanza. Quindi una grande proporzione tra fianchi-vita è un indicatore del fatto che la donna può portare a termine la gravidanza in modo sicuro. Questo indipendentemente dall'età è un fatto puramente istintivo, non è che è collegato all'età che dici e vabbè ma sono malgascione, oramai non ho più l'età, non c'entra niente. Quindi ovviamente tu puoi migliorare questo fatto valorizzandoti con l'abbigliamento, con una dieta anche per diminuire i fianchi e per diminuire la vita. E questo perché una donna dritta con fianchi-vita con il suo stesso rapporto piace molto di meno, attrae molto di meno. Agli uomini piacciono le donne belle esteticamente, un altro fatto importante, però essere belle esteticamente vuol dire tutto e non vuol dire niente, ma la cosa fondamentale è che non sia mignotta, diciamo così, che appartenga ai canoni estetici belli ma che possa presentarla alla madre. Quindi una donna che sia femminile, perché la bellezza intanto evoca anche il fatto di essere sana, da un punto di vista istintivo, femminile, piace alla sfera emotiva, ma non deve essere mignottita però, perché se no devono, come dire, non rappresenterebbero mai gli amici, invece devono essere orgogliosi di una donna bella ma anche sensuale. Agli uomini piace una donna che si prenda un po' cuore di loro, talvolta una donna un po' mamma, una donna che ha fiducia in se stessa, questo perché una donna fiduciosa in se stessa è sicuramente una donna più affidabile. Una donna intelligente, una donna di cultura, questo vale soprattutto per gli uomini di classe, per gli uomini di qualità. E poi, diciamo la verità, agli uomini piacciono le donne rilassate, le donne che li rilassano, non le donne nervose, non le donne agitate, e, dulcis in fundo, le donne indipendenti, le donne che sanno, diciamo, essere indipendenti, che sanno gestire la propria vita in modo autonomo e indipendente, che non dipendono da loro. Bene, per questo video è tutto, se ti è piaciuto condividerlo con i tuoi amici, metti un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco, ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai farmi, potrai scegliere tra quattro livelli di abbonamento, abbonamento live, con lezioni mirate, abbonamento top, con lezioni mirate e videoregistrazione in seminario del vivo, abbonamento master consulting, con in più una consulenza telefonica. Ciao a tutti!